Allora ragazzi, ben a tutti, oggi siamo qui presenti per andare ad analizzare tutto quello che è uscito oggi alle 19 con calma perché abbiamo tanti aspetti da vedere, tanti giocatori, abbiamo visto che comunque alle 19 scadeva la sfida con mid non è uscita l'Icon Prime, questo non significa che nei prossimi giorni non la potremo trovare come SBC quindi secondo me uscirà anche magari settimana prossima, però per il momento hanno tolto diciamo la sfida soltanto quella Icon Mid staremo a vedere nei prossimi giorni appunto uscirà l'Icon Prime SBC insomma, vedremo allora andiamo a vedere subito Mertens che è uno dei giocatori che è uscito SBC cioè sia la carta quella diciamo tra virgolette base e quella premium ovviamente noi andremo ad analizzare soprattutto quella premium che è quella che ovviamente ci piace di più quella con l'immagine dinamica, quella con le statistiche soprattutto molto più forti già per l'immagine dinamica io direi assolutamente tutti i napoletani, tutti i fanboy di questo Mertens per chi c'ha una serie A sicuramente se lo sbloccheranno peccato per il 5 piede debole che non ha però 4 massabilità, 4 serie piede debole alto e basso di work rate, quindi perfetto vediamo le statistiche nel dettaglio, sicuramente molto 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 interessanti mettiamolo qui in panchina allora, ha 99 di accelerazione, 90 di velocità scato, non male finalizzazione 98 effetto 95 discreti valori di tiro, 91 tiro, potenza tiro, 92 di tiro dalla distanza 88 di freddezza, non male sicuramente sottoporta, buon passaggio, buoni valori di passaggio perfetta agilità, perfetto equilibrio, 99-99 sicuramente mi sento di dirvi che è un buon C.O.C. da TT ve lo consiglio un po' di meno, anche se comunque potrebbe assolutamente giocare da TT ve lo consiglio un po' di meno per la mancanza della quinta sele piede debole ma secondo me anche da TT se tira col destro sicuramente è letale sottoporta e farà gol ha 95 di rettività, essendo molto piccolino secondo me può essere veramente molto 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 sgusciante e molto soprattutto reattivo appunto per tutte queste statistiche che abbiamo visto 48 di forza, 90 di stamina, veramente un buon giocatore anche il finest shot ha diversi traits interessanti quindi ragazzi io sicuramente una chance gliela dare a questo Mertes che ovviamente non costa neanche tanto diciamo che ammortizzandolo con qualche carta lo potete pagare intorno anche ai 100k sicuramente veramente molto molto interessante ripeto merita davvero tanto per la carta anche per l'immagine dinamica assolutamente tanta roba poi c'è un altro giocatore, Grealish per gli obiettivi come sapete io consiglio sempre questi giocatori perché sono gratis e perché comunque secondo me appunto essendo gratis dovete dargli una chance perché se non vi dovessero piacere al massimo andrete a buttare in un builder quindi è molto molto interessante peccato per le tre stelle piede debole sicuramente normale normale di work it questo giocatore deve giocare sicuramente esterno anche se non ha tantissima velocità ha 94 accelerazioni e 90 di pressione a scatto buoni valori di passaggio corto 96-88 lungo non tantissimo non altrettanto buono sicuramente a livello di finalizzazione perché 85 e 89 di freddezza poca forza una buona agilità un buon equilibrio sicuramente meno interessante di Mertens ma ci dà di una cosa che Mertens lo dovete pagare invece questo giocatore è praticamente gratis quindi io ci farei sicuramente un pensiero per questa alla sinistra della stone villa inglese poi andiamo a vedere per quanto riguarda invece il pass hanno messo vabbè i soliti pacchetti solite esultanze insomma tralasciamo andiamo a vedere sicuramente a livello 15 ci sono tre giocatori interessanti di questi tre giocatori interessanti sicuramente andrei a soffermarmi un po' di più su subby e ovviamente anche diaz perché hanno 4-4 l'altro giocatore lo escluderei perché non ha neanche 4-4 quindi come sapete è molto 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 lontano dal meta del gioco di quest'anno sicuramente sono tutti e due difficilmente ibridabili quindi vi consiglio di scegliere soprattutto per quanto riguarda come eventuali super sub questa 90-90 agilità di equilibrio sicuramente molto più interessante rispetto a quest'altro giocatore e sulla fascia questo subby secondo me può essere molto più interessante quindi la scelta da questi tre sicuramente ricadrà per quanto mi riguarda su subby che lo vedo molto più scattante e molto più diciamo efficiente secondo me sulla fascia anche se l'unica pecca di questo giocatore sulla fascia potrebbe essere la reattività che ha solo 74 comunque sono giocatori gratis quindi potete provarli come vale lo stesso discorso per gli altri e eventualmente se non vi piacciono li potete andare a buttare sicuramente in un builder poi andiamo a vedere invece il livello 30 del pass dove abbiamo praticamente il Gabriel Jesus footmas che è non è uscito questa volta ce lo ripropongono come ultimo pezzo del insomma del pass sicuramente un giocatore molto 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 valido peccato per le piede debole 3 stelle pede debole alto 8 di Warcret buon giocatore sicuramente buon C sulla fascia potrebbe essere utilizzabile anche se non ha tantissima velocità ma quel 90 di agilità e 90 di equilibrio lo rendono magari un po' più imprevedibile da Super Sub con 93 di reattività sicuramente buon giocatore buon giocatore questo Gabriel Jesus peccato per le 3 stelle pede debole o se le dire unica pecca per questo giocatore ma tutti invece Draxler hanno invece il 92 di rated quindi hanno un overall un po' più alto rispetto a Gabriel Jesus che è al 91 quindi potrebbe essere un po' più utile in chiave SBC potrebbe darvi un vantaggio notevole in chiave SBC oppure da utilizzo in game questo Matthew D purtroppo ha due stelle pede debole e due massavità ma è un buon mediano secondo me perché è un normale alto di Warcret come sapete il mediano come diciamo prelocativa principale ha quella di intercettare i palloni non ha sicuramente brutti valori di passaggio 97 corto 90 lungo discreti valori di velocità buona intercettazione anche lui tanta tanta roba sicuramente anche lui molto utilizzabile molto utilizzabile li mettere sicuramente una carta ombra Jesus li mettere una bella predatore invece per quanto riguarda Mertens di prima poi ci andiamo a vedere un attimo ve lo sentiamo perché sicuramente mi sono dimenticato di dirvelo e per quanto riguarda Draxler invece anche lui è una buona mezzala secondo me lui secondo me deve fare la mezzala 5 mostabilità 5 mostabilità scusatemi 4 mostabilità 1,87 normale di worklet sicuramente lui o con un motore o con un accalciatore potrebbe tranquillamente fare la mezzala abbastanza bene secondo me questo è un giocatore da provare anche perché comunque essendo da Paris Saint Germain è l'Inca magari nei marm quindi potrebbe essere anche lui utile insomma per quanto riguarda invece vediamo prima i giocatori del pass quello che vi ho consigliato prima che stile intesa li andrei a mettere andiamoci a vedere un attimo il giocatore vediamo con la carta davanti sicuramente anche lui è una predatore assolutamente o un cecchino per la freddezza magari predatore o cecchino comunque Sabi lo consiglio assolutamente rispetto agli altri due per quanto riguarda invece Mertens ok eccola qui la carta la vediamo nel dettaglio anche lui ci mette una predatore oppure una cecchino per la freddezza assolutamente come si vinti se invece mettiamo un attimo Grealish lui vi metterà invece magari potete mettere anche lui una predatore o una cecchino assolutamente il motore non serve ne a uno ne all'altro perché comunque sono messi abbastanza bene con l'equilibrio quindi raga fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se vi aspettate un po' di più sicuramente questo Mertens è una carta che sicuramente molti andranno a sbloccare io ripeto la consiglio perché non è veramente un brutto giocatore almeno guardando le statistiche sulla carta domani probabilmente andremo a sbloccare in live questi giocatori se volete magari un confronto magari a livello di gameplay domani lo andremo sicuramente a fare fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere chi vi piace di più chi vi attrae di questi giocatori quelli che andrete a sbloccare se siete d'accordo con tutto quello che ho detto noi ci becchiamo in un prossimo video mi raccomando arriviamo a 100 like e ci becchiamo domani streaming mi raccomando 9.15 9.20 che devo fare anche la wiki league domani mi raccomando ciao a tutti grazie mille per avermi seguito grazie mille